Sindacati in piazza per i rinnovi dei contratti, si fa sempre più incalzante la lotta contro il Jobs Act. L'articolo 6 diventa il mostro da combattere per garantire il proprio futuro lavorativo e a pescare il caso riguarda un numero che va da 500 a 600 lavoratori. Fino a oggi se un'azienda cambia nome noi abbiamo la di diritto di restare al lavoro. Mentre invece loro vogliono fare che l'articolo 6 viene fatta con la Jobs Act e non abbiamo più il diritto di restare, ci possono toglierci. Un caso non isolato non solo pescare e non solo i lavoratori preposti all'ambiente. L'Abruzzo in sé conta una moltitudine di presidi, proteste e manifestazioni che si sono succedute una dopo l'altra fino a quella di oggi. Lo sciopero non è contro i cittadini, è solamente contro le aziende, anzi noi addirittura per far vedere che non siamo proprio contro i cittadini abbiamo lasciato fare i servizi essenziali a delle aziende che hanno superato quello che dice la legge 146.90 e non abbiamo fatto nessuna opposizione perché appunto non vogliamo creare problemi per la raccolta e per tutti quanti gli altri servizi.